Carissimi ragazzi, carissimi ragazzi di Quarta C, subito dopo aver registrato la video lezione di pochi minuti fa, mi è venuto in mente che un modo ideale per esplorare la trasformazione di KLE, di cui parlo alla fine del video come forma di esercizio, è di usare, come abbiamo fatto anche qualche lezione precedente, GeoGebra. Per cui un velocissimo addendum del video precedente in cui vediamo come utilizzare GeoGebra per esplorare le cose che abbiamo visto sulle trasformazioni di KLE nel piano complesso. Allora, apriamo GeoGebra. Come al solito usiamo la versione online che è la più semplice, senza bisogno di installazione. Allora, se vi ricordate abbiamo definito la trasformazione di KLE come il rapporto tra 1 più z fratto 1 meno z. Chiaramente GeoGebra interpreta inizialmente, quando io do una funzione di questo genere, la interpreta come funzione reale, per cui mostra quella che è una curva omografica, una iperbole riferita ai propri assintoti e traslate rispetto all'origine. Ma non ci interessa questo. Definiamo un punto complesso, per esempio z, facciamo senza z, chiamiamo per esempio il punto 1 più i. in questo punto qua z1 è un punto complesso, ok? Inizialmente indicato con 1 più i. E vediamo come agisce il suo trasformato, cioè come si posiziona nel piano complesso la trasformazione di questo punto. Allora, intanto notiamo che sono fuori dalla circonferenza di raggio unitario e il trasformato sta a sinistra, ok? Però nel momento in cui entro dentro la circonferenza, come vi ho proposto di dimostrare come esercizio, vedete che il punto sta a destra. Per vedere meglio, circle00 di raggio unitario. Questa è la circonferenza di raggio unitario. Allora, vedete che appena porto z1 dentro la circonferenza, in qualunque punto, ops, il punto sta sempre a destra dell'asse immaginario. Appena esco dalla circonferenza esce anche lui. quindi come se la parte interna della circonferenza fosse mappata, fosse trasformata nel semipiano destro e la parte esterna della circonferenza invece nel semipiano sinistro. Oh, che forte, non sapevo che anche le label di GeoGebra potessero essere cambiate. Poi l'altra cosa che abbiamo visto insieme, intanto, è che se mi avvicino a 1, vedete, se mi avvicino a 1, il punto tende all'infinito. Vedete? E se mi avvicino a 1 da sopra, va verso l'alto. Adesso non si può vedere, chiaramente. E se mi avvicino a 1 da sotto, tende ad andare giù, verso il basso, verso meno infinito. Ok, quindi il punto del piano 1 viene trasformato in un insieme di infiniti. Questa cosa però la vedremo soltanto in quinta, forse. Cioè, vedremo in infiniti, ma non so se li vedremo sul piano di Erganghaus, di numeri complessi. Quindi vedete, possiamo avere una visualizzazione di quella che è la nostra trasformazione. Ok? Bene. Vediamo adesso l'ultima cosa che abbiamo dimostrato insieme. Se i punti stanno sulla circonferenza, vi ricordate? Abbiamo detto che il trasformato sta sull'asse immaginario. Allora, per far questo interpreta come variabile temporale, facciamo la variabile teta, th. No? Interpreta come numero. Ok, mettiamoci qua sotto. T uguale a 100. Ok, adesso abbiamo lo slider. Settiamo lo slider da 0 a 6.28, che sarebbe 2pi greco. In questo modo abbiamo t, che è un angolo che va da 0 a 2pi greco, cioè a 360 gradi. Ok? Questo lo possiamo eliminare, possiamo eliminare anche... no, il cerchio lo possiamo lasciare. A questo punto immaginiamo di costruire un punto che sta sul cerchio unitario e quindi sarà nella forma E alla I per T. Quindi vedete che il punto Z1, al variare dell'angolo, rimane sul cerchio unitario. Quindi questo è un modo veloce. L'abbiamo fatto anche sulla lavagna prima di avere punti sulla circonferenza. Adesso vediamo come agisce, come si comporta il trasformato tramite la trasformazione di kelly. Intanto vedete il valore iniziale 0 non è definito perché abbiamo una divisione per 0. Ma nel momento in cui lo faccio partire, vedete che il trasformato che è Z2, vedete che giace sulla retta immaginaria. Adesso il punto Z1 rimbalza, torna indietro, vedete che Z2 al variare di Z1 e notiamo anche i due punti uniti, che sono i due punti in cui la retta immaginaria e la circonferenza unitaria si intersecano. In questi due punti Z1 e Z2 coincidono. Vedete quindi il punto è unito e poi quando Z1 sta nella semicirconferenza a sinistra, vedete che il numero immaginario Z2 si trova dentro la circonferenza. Invece quando abbiamo che Z1 sta a destra, il punto immaginario sta fuori dalla circonferenza, sopra e sotto. E questo l'abbiamo dimostrato prima, teoricamente, e qua lo possiamo vedere con mano. Vedete Z1 e Z2 coincidono in i e in meno i, dove è il punto fisso. Va bene, era solo una veloce esplorazione tramite, come abbiamo già visto in altre lezioni, tramite GeoGebra potete esplorare il piano di Erganghaus e in questo caso una trasformazione abbastanza interessante. Per ora è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci!